Ciao a tutti, sono qui in Tibet con un esponente della fauna locale, come potete vedere, perché oggi voglio parlare di un personaggio italiano che è molto legato, se non al Tibet, comunque all'Asia, all'Oriente in generale. È un giornalista che nella seconda parte della sua vita si è dedicato di più a libri o comunque a scritti di, diciamo, miglioramento personale, comunque raggiungimento di una maggiore serenità, come via, diciamo, come dire, nel sentiero della vita riuscire a percorrere in maniera più serena. Il personaggio in questione è Tiziano Terzani e quello di cui voglio parlare appunto è quelli che sono i suoi lavori in questo merito, non quelli di giornalista di cui conosco magari un po' di meno e non saprei cosa dire, probabilmente è stato sicuramente un ottimo inviato speciale della stampa tedesca perché lui non trova lavoro come italiano, quindi fu per molti anni, per 30 anni, come dice lui, un inviato della stampa tedesca in Cina e in Oriente. Quello che voglio dire è che Tiziano Terzani, ci sono molti video anche su internet o ha scritto vari libri di cui possono essere letti anche dei sunti, è un personaggio sicuramente piacevole da ascoltare sia nelle interviste sia in altri ambiti e quindi, come posso dire, i pregi credo che siano sotto gli occhi di tutti, è una personalità che esprime positività, lo fa in maniera pacata, tranquilla, trova anche delle soluzioni, delle idee che secondo me sono, magari non sono innovative, però sono importanti da essere ribadite, per esempio alcuni suoi concetti che io trovo sicuramente giusti sono quelli che noi non dovremmo cercare troppo di trovare un bene o trovare il bene assoluto perché non esiste un bene senza un male, come lui amava ripetere nel suo apprezzamento dello yin e dello yang, il simbolo della cultura indiana credo, che appunto rappresenta il nero e il bianco che si compenetrano e nel bianco c'è un punto di nero e nel nero c'è un punto di bianco perché appunto il bene e il male si compenetrano e nel tempo stesso ognuno ha una parte dell'altra, dell'altra entità e su questo sono d'accordo, cioè quando lui dice, che non vuol dire non andare a ricercare le cose, però quando lui dice puntare in una direzione di un qualche bene pensando che in quella condizione io, che se raggiungessimo quello noi saremo tra virgolette felici, è un errore perché non esiste un bene senza un male, non esiste solito senza malattia, non esiste felicità senza felicità, chi non è mai stato infelice non può essere felice e via discorrendo in altri ambiti, questo per sintetizzare. Quindi sicuramente questo è un punto positivo ma ce ne ha tanti, è piacevole ascoltarlo e credo che molti di voi hanno già fatto, ci sono però alcuni punti del suo pensiero che trovo invece poco razionali, poco coerenti, per esempio c'è un'intervista in cui lui dice che secondo lui fortemente in ognuno di noi è incluso la conoscenza di ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è giusto dice lui e ciò che è sbagliato e questo non è vero, prima di tutto perché ci sono persone borderline che non sanno nemmeno loro quello che vogliono, quindi non hanno nemmeno loro dei pregiudizi o dei valori ben chiari perché gli si muovono continuamente e lì c'è poco da fare e io credo che tutti ne abbiamo conosciuti più di uno e forse a volte anche noi siamo un po' confusi. Ma ammesso che queste persone con delle confusioni non ci siano, comunque anche le persone sicure tra virgolette dei loro valori sono comunque valori personali, se vogliamo fare una provocazione è ovvio che un comunista avrà dei valori diversi da un nazista per esempio o un talebano avrà dei valori diversi, delle priorità diverse, avrà delle idee di ciò che è bene e ciò che è male in maniera convinta diverse da quello che può essere un razionalista inglese o americano o scienziato del MIT, uno del PDL ponendo che sia nel PDL per valori, per scelte di, sicuramente c'è per valori magari propri però è nel PDL perché crede in alcune cose, magari un arricchimento personale piuttosto che nel bene comune però è lì perché crede che questo sia importante, così come uno che sta nella SEL ha altri valori, al di là del fatto di chi abbia ragione oppure no, queste persone sono convinte di avere ragione, sì c'è qualcuno che mente anche se stesso, però sicuramente, ma ci sono molte persone che sono convinte perché quello che noi pensiamo e quello che noi facciamo nostro come valori fondamentali del nostro carattere non sono dei valori stereotipati che sono uguali per tutti, sono delle cose che si strutturano a seconda delle nostre esperienze e anche un po' del nostro carattere congenito. Quindi è semplificativo dire che tutti possiamo trovarci d'accordo su alcuni principi fondamentali perché purtroppo non è vero, perché per qualcuno può essere un valore persino la guerra come strumento di accrescimento, del coraggio, di altre cose. Mi ricordo un detto dei futuristi per esempio che dicevano che la guerra è l'unica igiene del mondo. Al di là del fatto che si possa contestare o no questa cosa, io credo che loro fossero convinti di questo, scrivevano poesie, si mettevano in prima discussione, d'annunzio che non era un futurista però era vicino forse al movimento, non si risparmiò ad andare i volontari in guerra come altri personaggi perché pensavano come Hemingway per esempio che aveva come valore probabilmente il voler vivere una vita avventurosa come cosa positiva. Quindi io capisco a grandi linee quello che vuol dire Terzani, però è una semplificazione dal punto di vista dell'analisi psicologica dell'essere umano. E così ci sono altre considerazioni di questo genere qui, il fatto per esempio che la società umana possa semplicemente con una rivoluzione interiore cambiare, questo sarebbe molto bello se fosse così, forse gli viene molto anche dal rapporto stretto con le culture orientali, ma non è così semplice. Noi sappiamo attraverso, con tutti i nostri limiti della cultura occidentale, noi sappiamo attraverso la cultura occidentale che avrà mille limiti, ma anche dei pregi secondo me, che quello che noi siamo, quello che noi possiamo fare dipende molto anche dalla società in cui siamo stati educati. I nostri schemi mentali, le nostre strutture mentali, i nostri pensieri, se noi nasciamo in Occidente, facciamo pensieri diversi che se fossimo nati in Cina, perché la cultura diversa ci crea una diversa visione del mondo, perché come ho detto tante volte, sicuramente esiste una realtà fuori di noi, ma noi la interpretiamo non come una macchina fotografica, ma come invece un filtro che è dato dalle nostre esperienze, dalla nostra cultura, eccetera. Quindi ognuno interpreta la realtà in maniera leggermente diversa, o forse anche molto più diversa. La cultura in cui nasciamo, oltre che le esperienze personali, sono una grande parte di questa cosa. Quindi rivoluzione interiore, è difficile fare una rivoluzione interiore se non c'è una rivoluzione anche esteriore, perché l'individuo alla fine è figlio della sua epoca e della sua società, quindi è un po' pretenzioso pensare che noi possiamo tanto liberarci da quelli che sono i determinismi della nostra società. Questi sono due punti su cui posso criticare un po' Terzani, di cui comunque ho avuto piacere a vedere molte interviste, ho visto il film che è stato fatto dai tedeschi con Bruno Gantz, mi pare, come protagonista sulla sua vita, sulla ultima parte della sua vita e apprezzo sicuramente la serenità con cui lui è andato incontro anche alla malattia, per quanto lui stesso in onestà ha detto, ha cercato in tutti i modi di combatterla e poi ha raggiunto una serena accettazione della malattia, che poi è il percorso però che la psicologia ci dice che viene fatto da quasi tutti, cioè nel momento in cui si affronta un lutto a livello psicologico ci sono delle varie fasi che sono state studiate dagli psicologi, adesso non mi ricordo esattamente i nomi delle fasi, però un lutto è il senso di qualcosa di brutto, quindi può essere il fatto che si sa che si deve morire, come il fatto che magari hai morto il tuo parente o il fatto magari che ti è successo qualcosa di brutto anche meno grave, le fasi sono appunto il rifiuto del problema, la disperazione di fronte al problema, la rabbia di fronte al problema e l'accettazione del problema, queste sono le fasi principali che si susseguono più o meno in queste volte, adesso chi fosse interessato basta andare a cercare fasi del lutto, è stato studiato mi pare da uno psicologo, non so se americano, credo americano come sempre, quindi quello che vedo, quello che noto in Tirazzani è un po' una semplificazione in certi ambiti, che per carità va benissimo per il grande pubblico ed è piacevole anche ad ascoltare, però è un suo piccolo limite. Bene, questa è la mia considerazione sul personaggio, spero che ci saranno dei commenti, vi ringrazio per avervi seguito e un saluto dal Tibet. Grazie a tutti.